Nicoletta, prova di medesimarti in quello che è stato 100 anni fa, tu ti ci vedresti? Sicuramente sarebbe un po' difficile, diciamo, perché con quello che ci circonda, la tecnologia, i tempi che comunque si vanno avanti, è tutto, diciamo, cambiato, no? Parliamo, insomma, di 100 anni fa, per cui, insomma, il tempo è passato. Ma prendiamo ad esempio in considerazione questo, questo è un rasoio per capelli, proporlo ad un ragazzo oggi sarebbe veramente una cosa assurda, strana, perché comunque con il tempo, la frenesia che abbiamo adesso, sarebbe come rivivere magari il 2016 in Moviola. Sicuramente, certo, erano tempi duri, questo inevitabilmente, però magari mi affascina il fatto, magari, della riscoperta, no? Di riscoprire quello che c'era, no? Che non abbiamo potuto vivere noi, per fortuna, diciamo, dal punto di vista della guerra, questo sicuramente. Però, dall'altro lato, diciamo che era più apprezzata la vita e sicuramente i valori, c'erano più principi e questo mi affascina, onestamente.